È stato arrestato lo scorso 13 maggio dalla polizia un kosovaro di 28 anni per aver sequestrato una donna incinta di 7 mesi, kosovara anche lei. L'operazione è avvenuta in collaborazione tra la Questura di Trieste e la Polizia di Frontiera di Tarvisio, in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere e successivo mandato di arresto europeo emessi dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Trieste, su richiesta della Procura della Repubblica. All'uomo viene quindi anche contestato il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Detenzione e spaccio di droga. Sono i reati contestati a un iracheno, 25enne, residente a Trieste, ma senza fissa dimore a una triestina, 35enne, residente in città. Alla donna erano stati sequestrati alcuni grammi di cannabis da parte di agenti in borghese, mentre successivamente emerse anche il coinvolgimento del 25enne. In particolare l'iracheno era già coinvolto nell'operazione Silos, culminata con l'arresto di numerosi spacciatori e insieme alla donna è responsabile della vendita di cocaina, nonché della detenzione di altre droghe, anche a fini di spaccio. L'iracheno è stato condotto in carcere mentre la donna è agli arresti domiciliari. È stato arrestato ieri dalla polizia un triestino, 31enne, già noto alle forze dell'ordine. L'uomo era affidato ai servizi sociali di Verona ed è stato identificato a Trieste nel Rione di San Giovanni dal personale del reparto Prevenzione e Crimine di Padova. Accompagnato in questura dopo le formalità di rito è stato condotto al Coroneo.